bentornati alla cucina del gatto oggi vedremo come cucinare la quinoa un falso cereale dalle ottime proprietà altamente digeribile molto proteica con poche colorie e totalmente priva di glutine se vuoi sapere di più sulla quinoa guarda il video che ho aggiunto in descrizione della mia amica isabelle grand che ti illustra approfonditamente tutte le proprietà e perché mangiare la quinoa fa bene realizzeremo un'insalatina con gamberetti un secondo leggero e gustoso ma ideale anche come contorno per accompagnare dei secondi di pesce ma vediamo gli ingredienti 150 grammi di quinoa un'arancia 50 grammi di gamberetti olio extravergine d'oliva sale e pepe iniziamo a sciacquare i chicchi sotto l'acqua corrente facciamo bollire per 15 minuti la quinoa in abbondante acqua salata terminata la cottura lasciamola raffreddare nel frattempo in una padella facciamo scottare leggermente i gamberetti in una ciotola condiamo la quinoa con il succo d'arancia aggiungiamo un filo d'olio e i gamberetti tagliati a pizzetti aggiustiamo di sale e pepe se la ricetta vi è piaciuta clicca su mi piace e iscriviti al mio canale a quello di isabelle grande alla prossima ricetta del gatto ciao 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 ciao